Amici miei, la campagna elettorale sta per finire, finirà venerdì sera alle 21 in Piazza Duomo per la coalizione del cambiamento. Domenica passata eravamo tantissimi in Piazza Duomo nonostante la pioggia e il freddo, venerdì sera si prevede che la serata sia più clemente e vi invito tutti a venire a festeggiare la chiusura della campagna elettorale del cambiamento. Cambiamo insieme Cerignola, il 31 maggio li mandiamo tutti a casa e ricominciamo perché Cerignola deve rivivere.